Il mio cuore è pieno di speranza. Sono certo che ci siano possibilità concrete di scoprire chi ha rapito mia figlia. Tanti sono i punti ancora da vagliare e approfondire. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro e ho fiducia nella procura. Sono certo che gli elementi che abbiamo presentato verranno valutati. Ci vorrà un po' di tempo, ci sono tante cose da verificare, ma la speranza di arrivare a scoprire la verità c'è, ed è tanta. Parla così Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio e padre legale di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni sparita da Mazzara del Vallo il 1 settembre 2004. Sono trascorsi 20 anni da quel tragico giorno, ma i familiari di Denise non si sono mai arresi. Ora, Tony Pipitone è intervenuto personalmente. Ha costituito un pool di esperti che ha esaminato attentamente gli atti investigativi e oltre, elaborando una nuova istanza di riapertura delle indagini, già depositata presso la procura di Marsala nelle scorse settimane. L'avvocato, Luisa Calamia, supporta la richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione redatta da un nutrito team che include l'investigatore Giuseppe Asaro, la consulente Katia Sartori e la criminologa Antonella Pesce Delfino. È grazie a quest'ultima che il caso di Nada Cella, la segretaria di Chiavari, assassinata all'età di 24 anni il 6 maggio 1996, è stato riaperto dopo quasi 30 anni, dice la criminologa. «Abbiamo lavorato su vari fronti. Abbiamo scelto di non anticipare nulla di quello che abbiamo esposto alla procura, perché vogliamo che venga analizzato con il tempo e la serenità necessari. Posso dire con certezza che ci sono elementi nuovi». La nuova istanza di riapertura delle indagini non solo rilegge gli atti esistenti, ma presenta anche una serie di nuovi elementi mai precedentemente portati all'attenzione degli inquirenti. Il lavoro del team è stato condotto con discrezione e attenzione per anni. Tony Pipitone ha anche fondato un'associazione dedicata ai bambini scomparsi, con l'obiettivo di prevenire che tragedie come quella di Denise accadano ad altri. Dopo la scomparsa della piccola, è emerso che sua madre, Piera Maggio, aveva avuto Denise da una relazione con un altro uomo, Pietro Pulizzi, attuale marito di Piera e padre biologico di Denise. Questo era un fatto del quale Tony Pipitone non era a conoscenza. Oggi dichiara «In questi vent'anni ci sono sempre stato a modo mio. Non sono stato davanti alle telecamere, ma questa non può essere una colpa. Non vuol dire che non abbia partecipato a quello che è successo. Con il mio avvocato ho sempre seguito tutto. D'altra parte, Denise è ancora mia figlia. Io ho sempre pensato che se mi vedesse, anche oggi dopo tanti anni, mi potrebbe riconoscere. È con me che si addormentava la sera. È con me che giocava. In quella famiglia c'ero io. Poi all'improvviso sono stato emarginato. Sono rimasto solo, ma proprio solo. Ora mi ritrovo con tanti amici, tante persone che hanno deciso di darmi una mano. Ed è anche grazie alla loro presenza che vado avanti con maggiore forza e determinazione. Il lavoro che è stato fatto è enorme e ora c'è la possibilità di scoprire che cos'è successo a mia figlia». Per Tony Pipitone, Denise è viva da qualche parte. È convinto che una persona ancora sconosciuta l'abbia sequestrata e portata via dai suoi cari. Lancia un appello a chiunque sappia o abbia visto qualcosa. «C'è ancora tempo per liberarsi la coscienza, per farsi avanti con noi, in procura o in forma anonima. Sono certo che qualcuno sa e gli chiedo di aprire il cuore. Mi chiedo come faccia ad andare avanti con un peso del genere». Date le quantità di materiali da analizzare, si ipotizza che la procura impiegherà alcuni mesi per valutarlo completamente. È probabile che una prima risposta sia formulata dopo l'estate. Piera Maggio, tuttavia, ha espresso il suo disappunto sui social in questi termini. La correttezza dov'è? Anziché dare la notizia alla stampa avrebbero dovuto avvisare prima la madre, perché guarda caso Denise è figlia mia. In tutti i sensi. Quella stessa madre che ha cercato la sua bambina per vent'anni, al contrario di protagonisti estemporanei. In realtà, non sono stati divulgati dettagli sul contenuto di queste nuove indagini per evitare di suscitare allarmismi o alimentare speranze infondate. Se il caso dovesse essere effettivamente riaperto, ci sarebbe motivo di condividere una gioia collettiva. Piera Maggio, recentemente intervistata, ha accennato a una pista su cui sta lavorando con il suo avvocato, una pista che sembra condurre in Grecia. Ecco le sue parole. Ci hanno fatto vedere la foto di una ragazza che somiglia a Denise, scattata in Grecia nel 2012. Ci sono altre persone del gruppo familiare insieme a lei, probabilmente di etnia Rom. Voglio sapere chi sono quelle persone con cui è stata ripresa nello scatto. Fino a prova contraria, Denise va cercata. Se io vedo un'immagine di una bambina o di una persona che ha la fisionomia di mia figlia, cerco di verificare se si tratti di lei. Torniamo al 1 settembre 2004. Denise Pipitone era fuori casa a giocare, sotto la supervisione della nonna materna. L'ultima volta che è stata vista è stato poco prima delle 11.45. La nonna, impegnata in cucina, si è resa conto della sua scomparsa alle 11.50. Sono seguite ore di ricerche, mesi e anni di falsi avvistamenti e infruttuose indagini. Numerose segnalazioni sono state fatte, ma nessuna si è rivelata attendibile. Il 6 dicembre 2014, la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per omicidio, focalizzando l'attenzione sulla sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, che all'epoca aveva 17 anni. La sentenza della Cassazione nel 2017 ha messo fine alla cosiddetta pista familiare. Jessica è stata assolta per la terza volta. I giudici, nelle motivazioni, hanno specificato che non vi erano prove sufficienti per condannarla, sebbene lei e sua madre, Anna Corona, avessero un movente, l'odio, nei confronti di Pieramaggio. Qual è ora la nuova pista?